Sindaco, il significato della manifestazione di questa sera? Un significato forte, proprio alla vigilia dell'incontro con il manager sullo studio delle linee guida per la stessura dell'arte agendale penso che questa sera questa manifestazione sia di stimolo affinché si tenga conto di quella che è la decisione del popolo ciociaro che pretende, vuole difendere un proprio diritto, quello della salute ci sono tutte le possibilità, basta pereguare su tutta la regione Lazio quelle che sono l'offerta sanitaria che c'è